profumo di big match profumo di partita scudetto buona domenica auguro una buona domenica a tutti che sia una domenica bella calcisticamente questa sera napoli milan squadra che è arrivata in questi minuti nel capoluogo campano milan che è determinatissimo a voler continuare questo sogno scudetto ad alimentare il sogno scudetto e per farlo deve vincere deve vincere a tutti i costi in casa del napoli di luciano spalletti ieri il tecnico napoletano ha detto siamo molto motivati ma anche il milan lo è tanto perché questa lotta a tre con l'inter si fa sempre più belle a vincente però servono i punti serve tornare a vincere perché il milan è reduce da due pareggi contro salernitana e udinese e quindi serve tornare alla vittoria per continuare a sperare in questo sogno scudetto parliamo della probabile formazione ma anche di calciomercato perché dalla francia continuano ad arrivare voci in molto molto interessanti che potrebbero far felice il milan voci riguardante un extra budget che potrebbe piovere dal cielo diciamo così anche in maniera inaspettata e riguarda la cessione di un ex milan che però è collegato ai rossonieri mi spiego meglio l'equip dice che il parisa germain di leonardo è fortemente interessato a lucas pacchettà del lione allora pacchettà era stato ceduto nel settembre del 2020 al lione dal milan per circa 21 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita tra i 15 e il 20 per cento questa percentuale potrebbe essere davvero molto interessante qualora il lione dovesse vendere pacchettà al parisa germain di leonardo per una cifra molto alta si parla di 70 80 milioni ma anche se fossero 60 sarebbero comunque dei soldi importanti che entrerebbero nella cassa nelle casse del milan e che sarebbero anche un po' inaspettati perché insomma dopo pochi mesi del suo trasferimento dal milan al lione leonardo che sta facendo pressing sul sul lione darebbe anche al milan la possibilità di ottenere un bel budget da questa cessione del brasiliano lucas pacchettà che ricordiamo era stato preso da leonardo dal flamengo quando pacchettà giocava in brasile era stato preso al milan per circa 38 milioni di euro una cifra molto alta nel gennaio del 2019 l'esperienza di pacchettà è stata un po' sfortunata col milan vi ricordate inizialmente è andato bene poi col tempo ha avuto dei problemi a un certo punto lui voleva lasciare voleva andar via per rigenerarsi per ottenere nuovi stimoli e ha scelto anche anche consigliato magari da da alcuni amici il trasferimento in francia il trasferimento al lione quindi possibilità di un extra budget per il milan qualora leonardo al paris a germain comprasse pacchettà dal lione una percentuale sulla futura rivendita che si aggira tra il 15 e 20 per cento poi c'è anche un altro extra budget che potrebbe arrivare dalla dalla germania e si tratta della dell'obbligo di riscatto che ha l'eintracht di francoforte nei confronti di aughe aughe che è stato ventuto venduto a fine mercato insomma dello scorso anno il giocatore qualora l'eintracht dovesse salvarsi in bundesliga scatterebbe l'obbligo del riscatto e in quel caso il milan otterrebbe 12 milioni di euro sono tutte cifre che il milan eventualmente da pacchettà ma specialmente da aughe che sono più sicure qualora l'eintracht si salvasse il milan potrebbe poi reinvestire sul mercato e quindi soldi freschi anche per cercare di puntellare questa rosa che comunque a 11 giornate dalla fine si sta giocando lo scudetto si sta giocando il titolo quindi è già un milan competitivo ovviamente le squadre vanno sempre migliorate soprattutto in quelle parti del campo che meritano maggiore attenzione da parte di paolo maldini e frederick massara allora la partita di questa sera dicevamo cresce l'attesa cresce la sensazione la voglia di voler vedere una una bella partita una gara in cui il milan possa finalmente ottenere un grande successo tre punti che definirei non decisivi per la corsa scudetto perché ci sono ancora altre partite a disposizione ma comunque potrebbe dare un forte un chiaro e forte segnale anche a napoli e inter per dire il milan continua ad essere una squadra da vertice che può giocarsela veramente fino all'ultima giornata e questo è il motivo per cui c'è anche fiducia in casa milan perché si vuole dare questo questo senso di questa dimostrazione pratica che il milan può andare a napoli e vincere la partita ma con quale formazione allora 4 2 3 1 solito modulo di stefano pioli ovviamente in porta c'è mike megnan la difesa a quattro è composta da calabria a destra che ha vinto il ballottaggio con florenzi al centro calulu con tomori bellissima la sfida e il duello tra tomori e osimen un grande attaccante contro un grandissimo difensore ne ha parlato anche ieri stefano pioli in conferenza ha detto io ho estrema fiducia in tomori che è fortissimo ha detto pioli ma ovviamente lo sapevamo anche noi ma dovrà essere anche una guida per il giovane calulu e comunque sa il fatto suo sa essere un giocatore anche molto aggressivo nella marcatura e quindi non dovrebbe concedere spazio agli attaccanti del napoli agli inserimenti degli esterni del napoli ad esempio su zielischi su su insigne su politano insomma gli esterni e i trequartisti con la maglia azzurra e poi a sinistra c'è teo hernandez teo hernandez dovrà fare una grande partita dovrà spingere tanto dovrà mettere in difficoltà diciamo i giocatori che incontrerà sulla sulla sua sul suo lato sulla sua corsia perché gli strappi i dribbling la velocità di teo sarà davvero fondamentale per provare a scardinare la difesa del napoli che è una delle migliori della serie a a centrocampo torna sandro tonali torna un grande giocatore torna un giocatore che queste partite le vuole vincere vuole sempre dimostrare di essere all'altezza del milan e lo ha dimostrato benissimo fino ad ora perché è uno dei migliori del milan in questa stagione e quindi un sandro tonali che farà coppia con benasser che sta bene il derby di coppa ci ha detto che benasser è uno dei giocatori più in forma del milan e quindi pioli si augura di poter contare su questo stato di forma di benasser dell'algerino che ripeto farà coppia con tonali e poi sulla tre quarti la novità più importante dovrebbe essere lo schieramento di che si nel ruolo di trequartista al posto di braim per dare più fisicità all'attacco per dare più per dare modo anche di di pressare in maniera più forte e decisa sul sul portatore di palla e sulla difesa del 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 napoli mentre braim può essere il jolly da giocare a partita ormai iniziata magari nel secondo tempo sulla destra messias dovrebbe aver vinto il ballottaggio con saleme cares i due sono sempre in continuo ballottaggio c'è sempre questa corsa alla maglia da titolare sia per il belga che per il brasiliano molte volte si alternano nel derby ha iniziato saleme cares e nella ripresa è entrato messias oggi a napoli stasera potrebbe giocare il brasiliano dall'inizio e poi nella ripresa entrerà il belga ma è una staffetta già predisposta e che pioli ha bene in mente a sinistra ovviamente raffa leao perché è il giocatore in più di questo milan è l'uomo che può creare maggiori pericoli alla difesa partenopea sarà bello il duello con di lorenzo nazionale italiano quindi è un leao che deve darci dentro perché può davvero fare lo scatto e per diventare campione queste sono le partite che potrebbero consacrarlo come giocatore di un livello di una fascia superiore quindi tutta tutto il milan crede in raffa leao nella partita di questa sera e poi la punta sarà girù che cerca ancora il primo gol fuori casa il primo gol lontano da san siro girù che giocherà la sua settima gara di fila da titolare come punta di questo milan e in panchina zlatan ibrahimovic zlatan ibrahimovic che è riuscito all'ultimo minuto all'ultima curva a trovare questa convocazione per napoli allenandosi parzialmente in gruppo nella giornata di venerdì e totalmente in gruppo nella giornata di ieri lo ha detto anche più all'inconferenza confermando la notizia e oggi a napoli può essere un'arma da schierare nei minuti finali se dovesse essercene bisogno potrebbe anche non essercene bisogno però insomma rebice e ibra dalla panchina danno a pioli la sensazione di poter cambiare l'attacco un attacco che non sempre è fluido ma molto spesso fa fatica però nelle partite fuori casa contro il napoli che potrebbe lasciare qualche spazio aperto e invitare a nozze le sgroppate di leao secondo me potrebbe essere un chiave una una chiave importante di lettura di questa partita di questo big match napoli milan che rievoca le grandi sfide degli anni 80 degli anni 90 tra questi due club ci vediamo questa sera dopo la partita per commentare a caldo napoli milan e ovviamente per raccontare questa partita epica che si gioca stasera al maradona a farà Grazie.